In tre sono finiti nei guai per rapine ed estorsioni commesse negli ultimi mesi tra Cogliano, Contursi Terme ed Eboli. Questa mattina il blitz dei carabinieri della compagnia di Eboli ha gli arresti domiciliari tre uomini originari di Oliveto Citra, accusati a vario titolo di rapine, estorsione e danneggiamento, in debito utilizzo di carte di credito e di pagamento, nonché porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre indagati per una serie di episodi, una rapina del 23 settembre ai danni di un automobilista occasionalmente incontrato alla stazione ferroviaria di Contursi, costretto minacciandolo con coltello a farsi consegnare 745 euro prelevati al bancomat. Violenza privata e rapina del 19 e 20 luglio a Cogliano, ai danni di due uomini, attirati in simulati appuntamenti con donne conosciute tramite siti internet. Una rapina e una tentata estorsione del 17 luglio a Cogliano, ai danni di un uomo, attirato anche lui con il metodo degli appuntamenti tramite internet, costretto minacciandolo con un coltello a farsi consegnare il portafoglio contenente 50 euro e a tentare un prelievo al bancomat non riuscito per la prontezza della vittima a bloccare la carta di debito. Un'altra rapina il 25 ottobre a Cogliano, ai danni di un uomo che minacciandolo con la pistola hanno costretto a farsi consegnare un bancomat il cellulare e l'orologio e una rapina il 27 settembre sulla pubblica via di Eboli, ai danni di un 14enne dal quale si sono fatti consegnare zaino e giubbino. Il provvedimento cautelare, sottolineano dalla procura, è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse, così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.